Restyling dei negozi, carta fedeltà e una nuova segnaletica. Le attività del centro storico di Fano ripartono grazie a un bando della regione dedicato ai cosiddetti centri commerciali naturali, nell'ambito del quale la città della fortuna si è piazzata al primo posto, ottenendo così un finanziamento di 67.000 euro. L'amministrazione comunale aveva presentato la sua proposta in sinergia con Confesercenti e Fano al centro, la nuova cooperativa che riunisce 14 attività del centro storico. Il progetto è stato portato avanti dal nostro Ufficio Europa che è veramente molto centrale in questo tipo di progettazione e quindi riesce a tirare veramente dei grandi e degli importanti fondi. Con una parte ci finanzieremo un progetto per noi centrale perché fa parte anche del piano strategico per il turismo ed è una segnaletica turistica all'interno della città di Fano composta da plance planimetriche all'ingresso e da una serie di segnalazioni che indicheranno tutti i punti di interesse turistico più importanti della città. Per quanto riguarda la parte privata verrà finanziata il progetto della cooperativa Fano al centro che è il progetto di una Fidelity Card che metterà insieme sconti, promozioni e comunque una senergia tra imprenditori della nostra città. Non sarà solo quello perché saranno anche finanziate alcune attività che hanno fatto investimenti tramite arredamenti, ristrutturazioni e quindi soprattutto in questo periodo di Covid risulta veramente importante riuscire a finanziare imprenditori che hanno creduto di investire nuovamente sul centro storico sulle proprie attività. Questo è un esempio di sussediarietà sia orizzontale perché c'è la collaborazione con i privati che è verticale, è una collaborazione tra regione, comune e privati, quindi dà il senso di una concretezza che va a risultato attraverso uno sforzo congiunto di pubblico e privato che hanno come obiettivo quello di rilanciare il centro storico. Rilanciare che non è una parola vuota, bisogna mettersi dentro i contenuti ma soprattutto i soldi e fare in modo che quei soldi siano spesi bene perché sono soldi dei contribuenti. Far sì che riparta l'utilizzo del centro storico come vero centro commerciale naturale, questo è l'obiettivo. La regione ha contribuito con 67 mila euro, un progetto che è partito dal basso, che prevede la collaborazione con i commercianti, con una cooperativa che ha coordinato questa attività e col comune per rilanciare, rivitalizzare, rendere più fruibili e anche digitalizzare quella che è la visibilità del centro storico che appunto noi chiamiamo centro commerciale naturale. C'è una riflessione che va fatta sui centri storici che sono una risorsa importante, in particolare poi un centro storico come quello di Fano che ha un valore aggiunto per la sua bellezza, per la sua testimonianza e per la sua piacevolezza, però sappiamo anche che negli anni hanno sofferto molto in modo particolare certe tipologie di attività commerciali, allora è importante ripensare, rivedere attività, iniziative, promozioni, ripensando anche quelle che devono essere le iniziative a favore di quelli che sono i nuovi bisogni, i nuovi comportamenti, le nuove abitudini delle persone. Oggi è una tappa importante perché abbiamo dimostrato che quando si lavora insieme pubblico e privato i risultati ci sono e sono la soluzione migliore per arrivare al risultato, ma non ci si deve fermare qua, dobbiamo proseguire, è nostra intenzione mettere ulteriori risorse proprio per fare questo, a cominciare da un'analisi socio-economica e quelli di quelli che sono i nuovi costumi per capire come aiutare quei comparti che all'interno dei centri storici soffrono maggiormente rispetto ad altri invece che negli ultimi periodi per le nuove abitudini hanno avuto un incremento significativo.